Noi siamo qui oggi per porgere il nostro saluto, il nostro augurio a Nino Sanzalone che va in pensione e che ha svolto la sua attività in seno a questa organizzazione sindacale per un lunghissimo periodo prima da semplice iscritto, poi da segretario cominciare, segretario anche facente parte degli organismi nazionali e questo ha consentito a questa organizzazione di crescere in modo sempre più preponderante passando dai pochissimi iscritti degli anni precedenti a delle quote elevatissime di questi anni in quanto la CISL è oggi per merito di Nino la prima organizzazione sindacale provinciale nell'ambito del comparto scuola questa crescita l'abbiamo vista non soltanto a livello di iscritti ma anche a livello di rappresentanti di sindacali in seno alle scuole, le cosiddette RSU, da dove siamo cresciuti, cosa più unica che rara in ambito nazionale di oltre il 10%, quasi l'11% rispetto a tutti gli altri. Certo per noi è una giornata felice da un lato perché auguriamo a Nino ogni bene che fa l'infezione ma dall'altro ci dà un senso così quasi di vuoto che però vuoto non sarà perché continuerà a far parte in altri organismi della nostra organizzazione e quindi consentirà a noi e a lui di crescere così come siamo cresciuti in questi anni.